Consigliere Guadagno, firme impegno della cittadinanza e della politica locale per cercare di difendere il presidio ospedaliero Fucito e in particolare alcuni dei reparti che rischiano di essere chiusi? Sì, io innanzitutto ringrazio gli operatori della comunicazione locale che ci stanno dando grande conforto ma anche in termini operativi vogliono sapere, spiegare alla comunità che segue naturalmente il piano ospedaliero posto in essere dai manager e dall'intero comparto salernitano per quanto riguarda la regione Campania. Noi vogliamo intervenire in modo serio, stiamo facendo una petizione popolare già da qualche settimana, abbiamo raggiunto quasi 400 firme, è un grande risultato, devo ringraziare il mondo dell'associazionismo locale, in modo particolare gli amici delle associazioni di Curteri, di Sant'Angelo ma anche del territorio dell'Alto Sarno come gli amici di Brasciugliano che si sono riuniti in comitati spontanei e gli amici di Siano. Devo dire che Mercato San Severino ha il piacere, l'onore e l'onere di ospitare sul proprio territorio l'ospedale in prossimità, quello che serve a un bacino d'utenza che va ben oltre i confini comunali, da tempo si parlava di un ridimensionamento di alcuni reparti, noi diciamo non bisogna toccare soprattutto reparti che funzionano, che hanno dato grado e capacità operativa non soltanto per il territorio irnino ma per l'intera provincia di Salerno, come ad esempio ginecologia e pediatria. Noi lo diciamo con grande garbo, però non toccate questi reparti, la battaglia è seria. Avete avuto notizia di questi tagli attraverso la definizione del piano sanitario che era stato presentato, è stato presentato al Ministero della Salute, non è stato approvato per questioni di ordine tecniche, è stato rinviato alla Regione Campania, dunque ci sarebbe ancora lo spazio appunto per intervenire. Destinatario di queste firme sarà il manager dell'Asta Salernita. Sì, noi consegneremo, penso per l'inizio del mese di novembre, mi auguro un gran numero di firme che testimoniano il disagio che la comunità vive, non soltanto, ribadisco, fino alla Noia, non soltanto San Severino e la Valle dell'Irno ma l'intera zona a nord della provincia di Salerno. consegneremo queste firme al manager Vigiani e per conoscenza renderemo partecipe a quello che è naturalmente al nostro avviso un ridimensionamento che Mercato San Severino, che l'ospedale di Mercato San Severino non merita per storia e per tradizioni, ma soprattutto per quello che è il valore operativo di questi reparti. Parlo anche di cardiologia, cioè il reparto principale in questo momento che non va ridimensionato per i numeri certi che ha determinato in questi anni è ginecologia, ma non soltanto ginecologia. Il reparto principale in questo momento è ginecologia, ma c'è tutto, tutto il reparto principale dell'operatività in prossimità. Sto parlando del pronto soccorso che a nostro avviso va potenziato, perché un infartuato che scende da Bracigliano a San Severino a Curteri si può ancora salvare. Dopodiché se deve fare 15-18 km in autobulanza non so se esattamente potrà vedere ancora la luce il giorno seguente. Una battuta rispetto anche a un impegno duplice, non solo per difendere i servizi ma anche per difendere i lavoratori. Nell'ospedale Fucito si sono mobilitati più volte i sindacati e anche rispetto a questo avete manifestato solidarietà ai lavoratori. Sì, io credo e ritengo che il sindacato stia facendo il suo lavoro, il suo operato. Ringrazio anche il sindaco di Fisciano, il sindaco di Baronissi, che in questi giorni, il sindaco di Bracigliano, ha chiesto quello che naturalmente è alla base del nostro operato, quindi come sta andando. Stanno cercando di capire e di mettere in campo anche sul piano istituzionale degli interventi, ma naturalmente la competenza è quella della Regione. La Regione Campania fa bene ad abbassare o a togliere i ticket laddove servono, ma bisogna naturalmente intervenire per quanto riguarda il presidio ospedaliero. C'è qualcuno che dice noi vogliamo puntare a un ospedale universitario, questo era l'ABC del mio programma di idea comune, però naturalmente questo non esclude naturalmente la nascita fondante dell'ospedale, cioè la ragione, il fulcro, cioè il servizio che deve rendere alla collettività, cioè l'ospedale in prossimità. Chiedo scusa se mi ripeto, ma è di fondamentale importanza. L'ospedale con i suoi reparti funzionanti non escludono l'intervento del potenziamento della Facoltà di Medicina che dista 3 km da Mercato San Serino, ma questo non va con la chiusura di alcuni reparti. Qualcuno dice che i reparti non saranno chiusi, ma il segnale di un ridimensionamento è naturalmente la pripista per il futuro del nostro ospedale.